vivevo in florida e in florida ogni anno c'è la stagione degli uragani e gli uragani sono delle manifestazioni di una potenza inaudita che distruggono e devastano qualsiasi cosa incontri bene gli uragani ogni anno gli viene dato un nome no perché perché se no poi si fa confusione e quindi si inizia dall'inizio dell'anno con la poi con la b poi con la c e nel 2020 sono finite le lettere dell'alfabeto abbiamo dovuto usare le lettere greche per identificare tutti quegli uragani ma non sono solo più numerosi sono anche più potenti e quando loro con la loro potenza risucchiano tutto quello che incontro incontrano disseminano disseminano animali disseminano piante disseminano semi disseminano agenti patogeni batteri virus insetti e gli insetti portano un sacco di malattie perché gli insetti per esempio portano la malaria che è una delle grandi piaghe dell'umanità ma portano anche zika portano dengue portano delle malattie che fino a poco tempo fa erano considerate malattie esotiche perché perché gli insetti non c'erano in alcune zone del mondo non c'erano in alcune zone del mondo